Quanti anni avete? Quando l'hai scoperto, parte 1 Avete presente il rumore dello schiacco nelle dita? No, non è provocato da queste due dita che schioccano Ma bensì dal dito medio che sbatte sul palmo Se inizi a contare, le tue labbra non si toccheranno mai Fino ad arrivare al numero mille Mille Si dice che Winnie the Pooh Tutto in italiano esca fuori Vincenzo la merda Ci stanno delle teorie che dicono che Winnie the Pooh In realtà è una femmina Poiché dal nome non si capisce Vincenzo Magari, non si sa Avete presente il McTost del McDonald's? Si dice che venga preso il panino dell'hamburger e il giusto al contrario Anche, è vero, da questa foto potete Se ci sono anche dei video, l'hanno detto tutti e lo voglio dire anch'io Un'altra curiosità che in realtà non c'entra molto però va bene Jeff Bezos, prima di fondare Amazon, aveva lavorato effettivamente al McDonald's Signori, si dice che ci sono quattro tipi di forme diverse dei McNuggets E non tiene soltanto bocconci di carne Ma bensì diverse ossa di cui non ricordo il nome però sono diverse ossa I Maya qualche anno fa hanno detto che nel 2012 sarebbe dovuto finire il mondo E voi a queste cose ci credete? Commentate qui sotto nei commenti quanti anni avevate nel 2012